Che ne so io? Devi seguire... Che è? Non riesci? No. E come faccio se ho sbagliato tutto? Perché hai sbagliato? Papà te l'ha aggiustato prima? No, non ho aggiustato niente. Come no? Qua ce ne sono due, ma ce ne devono essere tre. Allora, torna indietro coi fogli e guarda dove hai sbagliato. Allora... Sono smontatutto e lo rifai. No? No. Se hai sbagliato qualcosa... Che devi fare? Ma non mi ha corretto niente mio padre. Questo andava qua. E sto coso nero... Questo andava qua. No. No.